Ciao, uomo! Seconda settimana di sempre Stimium 900! Non vedo l'ora di salire in quella lusiosissima nave. Spero che tutti non fanno i miei gioielli, perché la nave sia bellissima. Io ho una casa, io ho una casa. Io ho una casa così grande da contenere in una piscina. Io ho una limusina lunga da là, da là tutta l'oro. Io invece ciò che vogliono, durante tre volte questo sforzo. Io ho un mobile che ci stanno attraverso. Io ho una casa tutta l'oro. E una villa. Io ho una villa adorata. E invece c'è una fontana d'oro. Io ho un castello d'oro. E' l'ora di marcarci. Sì, è l'ora di marcarci. E' l'ora di marcarci. E' l'ora di marcarci. Io ho un po' di marcarci. Forza, imbarchiamo. Forza. Andiamo. No, no, no. Eh? No, no, facci prima a te. No, facci prima a te. Forza, mamma Ritt, stai andando. Mamma Ritt. Mano. Salire. Io ho fame. Io ho fame. Anzi, io ho fame. Io ho freddo. Io ho fame freddo. Io ho fame freddo. Fame freddo. Guardate. Metti giù le patatine. Guardate. Voce, non sento. Guardate. Guardate. Ridammi le patatine. Lato, ridammi le patatine. No. Vai, vai. Guardate. 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 La gente voluta, respira, respira-se! Esquiva! 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 Esquiva, non sei musica! Paire poi jugue! La-la-la-la-lan, la-la-lan, la-la, la-la-la-la. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.